The Last of Us e i Runner. Qual è la loro origine? Primo stadio del Cordyceps. Entro due giorni dall'infezione, la vittima inizierà a mostrare maggiore irritabilità e ostilità verso gli altri. Ciò deriva dal fatto che l'infezione fungina e il conseguente aumento dei livelli di cortisolo causano l'indebolimento del sistema immunitario, provocando gravi lesioni al corpo, perdita di capelli e scolorimento della pelle. Entrando nella cavità cranica, il Cordyceps manipola il cervello, rilasciando un cocktail di alcaloidi e altri metaboliti che hanno un impatto diretto sul sistema nervoso della vittima. Agiscono così come neurotrasmettitori e influenzano anche la percezione della vittima in modo disturbante. Questo processo avviene in più fasi, è la cosa peggiore, che la vittima può rimanere cosciente delle proprie azioni per giorni e giorni. E da qui si spiega facilmente il perenne stato di frustrazione e agonia dei runner. Incapaci di controllarsi, sviluppano un linguaggio del corpo irregolare e ciò indica che alcune vittime tentano ancora di resistere al controllo del fungo. Ricordate qual è stata la prima scena in Della Stovasi in cui abbiamo incontrato un runner.